Allora questa è la piastra posteriore in fibra di carbonio radiotrasparente, si mette tra il paziente e il Lucas, si incastrano due componenti, dopodiché si accende qua, sta in modalità regolazione per cui lo posiziono sul torace del paziente, dopodiché lo faccio partire o continuo o 32, fantastico, così lo possiamo mettere in pausa e poi si spegne. Grazie a tutti.